Ben ritrovati e ben ritrovate ad un nuovo video analisi dell'album di Fabrizio De Andrè Tutti morimmo a stento Oggi è il turno dell'ultima canzone dell'album e cioè recitativo corale canzone con cui concluderemo la nostra analisi completa dell'album canzone per canzone e dopo il quale pensavo di passare all'analisi della buona novella personalmente il mio album preferito di tutta quanta la discografia di De Andrè se avete però preferenze o suggerimenti vi invito a lasciare qui sotto un commento la canzone può essere considerata una sorta di summa riassuntiva della tematica centrale su cui si è costruito tutto quanto l'album coerente con l'idea che esista ben poca colpa nel peccato e poco merito nella virtù De Andrè con questa canzone vuole sottolineare la necessità che la pietà debba essere la chiave di volta nella vita di tutti gli esseri umani in questa canzone a prendere parola sono tutte quelle categorie di persone che sono morte a stento nel corso delle altre canzoni dell'album e cioè gli impiccati, i drogati, le prostitute la canzone allora si scandisce praticamente attorno a quattro strofe e ogni strofa si suddivide sostanzialmente in due momenti nel momento dell'accusa e nel momento dell'implorazione nell'accusa i drogati, le prostitute, gli impiccati si dichiarano contro prendono la loro vendetta, la loro parte di giustizia contro coloro che nel corso della loro vita li hanno emarginati, li hanno esclusi, li hanno uccisi dunque come al solito e come vedremo coloro che sono accusati sono i membri più rappresentativi della società ben pensante moderna che De Andrè non ha mai potuto sopportare che è sempre pronta ad escludere, ad emarginare coloro che sono i diversi mentre invece nella parte di implorazione presente in ogni strofa vi è una vera e propria supplica da parte di coloro che sono esclusi verso la società ben pensante una supplica di ritrovare quella pietà che hanno di fatto perduto quella pietà attraverso la quale potrebbero finalmente smettere di escluderli di vederli come degli emarginati da cui stare distanti ma accoglierli e salvarli così dalla loro miseria e in entrambe queste due parti di ogni strofa sia nella parte di accusa che nella parte di implorazione la parola pietà emerge come centrale viene continuamente ripetuta almeno due volte per strofa diventando di fatto il termine chiave che scandisce tutto quanto il testo mostrandoci come, secondo De Andrè la pietà sia l'unico mezzo possibile per salvare questa società dei consumi ormai corrotta fasulla e superficiale e infine abbiamo le ultime due strofe in cui De Andrè smette di parlare attraverso i panni dei drogati, delle prostitute eccetera ma prende parola da sé di fatto e fa quello che si potrebbe definire un Memento Mori e infine in mezzo a questo recitativo proprio come dice il titolo vi è incastrato il corale tra una strofa e l'altra della canzone vi è infatti inserito un coro che canta di fatto quella che è una vera e propria fiaba una favola che si chiama La leggenda del re infelice un coro che significativamente è composto da dei bambini proprio perché viene cantata una fiaba ancora una volta a ribadire l'importanza e di avere una sensibilità verso le generazioni future verso l'infanzia e verso i bambini che verranno per evitare che vengano corrotti dalla morte psicologica presente di fatto in ogni adulto nella speranza che riescano a creare un mondo migliore inoltre che siano proprio dei bambini a cantare sembra quasi una sorta di riscatto verso quel coro di bambini presenti nella canzone precedente cioè Girotondo bambini che venivano lì sì corrotti dal mondo della guerra degli adulti ma che qui invece sembrano finalmente riuscire a salvarsi e mantenere quella purezza ingenua tipica dell'infanzia che non rinuncia alla pietà verso l'altro cominciamo prima dall'analisi del recitativo sentite subito come sono strutturate le varie strofe ogni strofa infatti incomincia con l'invocazione verso coloro che sono di solito i giudici coloro che hanno fatto presto a giudicare come colpevoli le categorie di persone escluse e morte a stento narrate nelle varie canzoni dell'album e a mio parere sono invocati sempre in modo magistrale perché gli vengono affibbiati dei nomi pomposi che da un lato li rendono importanti fanno capire quanto loro si sentono grandi e che hanno raggiunto posti altissimi all'interno della società ma che allo stesso tempo attraverso questa stessa invocazione ne denunciano l'inconsistenza della loro posizione sociale l'inconsistenza della fama che credono di aver raggiunto questi uomini sono chiamati ironicamente semidei perché si credono tali in virtù della massima gloria che hanno raggiunto qui sulla terra vivono di fatto in luoghi meravigliosi in castelli d'argento ma in realtà ciò che sono veramente sono uomini senza fallo uomini quindi senza attributi uomini che non valgono niente che sono inconsistenti che non hanno nessuna umanità dentro di loro e a questi stessi uomini questi uomini che hanno escluso e giudicato i poveri drogati i drogati stessi si rivolgono e chiedono loro una ultima e definitiva pietà dell'inumano varcando il confine conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine che la pietà non vi sia di vergogna i drogati mettono subito le mani avanti noi abbiamo raggiunto il punto più basso e meschino che un essere umano può raggiungere abbiamo varcato il confine degli esseri umani siamo arrivati all'inumano per tanto squallore che abbiamo raggiunto e abbiamo conosciuto la carogna cioè quella disillusione che mette fine ad ogni grande sogno i drogati lo diceva di andare nella canzone sono coloro che viaggiavano più di fantasia che avevano qualcosa dentro che volevano esprimere che sognavano esprimere ma che non sono mai riusciti veramente ad esprimere quella carogna sta proprio a significare la morte mentale che è di fatto uguale alla morte fisica quel momento di vita in cui ormai ci si ritrova inconsistenti ci si ritrova immersi nel proprio stesso marciume e fango senza possibilità di uscirne senza possibilità di credere più in noi stessi e nella vita con la strofa seguente De Andrè passa all'invocazione delle prostitute che comincia così qui la poesia di De Andrè raggiunge vette incalcolabili sentite come chiama tutte le persone che hanno frettolosamente giudicato come peccaminose le prostitute i banchieri, i pizzicagnoli e i notai che rappresentano appunto la cultura borghese la cultura della società moderna dei consumi superficiale che è subito pronto a prendere le distanze dalle prostitute ma che in realtà segretamente frequenta in modo spasmodico senza farlo sapere a nessuno infatti dice i ventri obesi e le mani sudate coi cuori a forma di salvadanai da un lato dando l'idea della loro meschinità e della loro natura peccaminosa ma dall'altro però fanno secondo me riferimento al modo con cui le povere ragazzine costrette a fare le prostitute vedono questi signori che vanno a frequentarle i ventri obesi, le mani sudate con cui le hanno toccate le hanno prese, le hanno costrette a fare ciò che loro mai avrebbero voluto fare e i cuori a forma di salvadanai evidentemente fa riferimento al pagamento con cui questi notai ben pensanti pagavano appunto le prostitute stesse ancora una volta poi c'è il sintagma noi che invochiamo pietà De Andrè dunque fa una vera e propria anafora con la strofa precedente qui coloro che invocano pietà sono le prostitute che De Andrè descrive magistralmente con noi fummo traviate l'unico peccato che hanno avuto queste ragazzine è essere state traviate dalla retta via non hanno nessuna vera colpa le circostanze, la sorte le hanno portate a vivere questa vita e dunque è impossibile giudicarle negativamente navighammo su fragili vascelli per affrontar del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli che la pietà non vi rimanga in tasca qui la parte descrittiva della categoria di persone escluse le prostitute appunto continua a far leva sul loro stato di innocenza sul fatto che loro non hanno avuto nessuna colpa se non quella di avere gli occhi troppo belli quella è stata l'unica colpa che le ha portate a vivere questa vita dunque non è possibile accanirsi contro di loro peraltro qui De André utilizza la metafora della vita come la traversata del mare su di una navicella per raggiungere il porto quando le prostitute dicono navighammo su fragili vascelli per affrontar del mondo la burrasca il mondo, la società moderna il mondo in cui viviamo è una burrasca è un mare in tempesta e queste ragazze avevano semplicemente avuto la sfortuna di attraversare questo mondo e questo mare burrascoso con dei vascelli un po' troppo fragili avevano appunto gli occhi troppo belli e infine anche l'implorazione di queste prostitute è significativa che la pietà vi rimanga in tasca i soldi sono in tasca e con i soldi e con il gesto di tirare fuori i soldi si pagavano e si costringevano ad avere rapporti sessuali queste prostitute e dunque De André sottilmente è riuscito a riallacciare il gesto concreto dell'esperienza delle prostitute del pagamento delle prostitute con l'implorazione di ritrovare questa pietà andata perduta per loro con la strofa successiva avviene il turno di coloro che sono morti per impiccagione dunque per condanna a morte De André comincia così giudici eletti, uomini di legge noi che danzianne i vostri sogni ancora siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola quanti innocenti all'orrenda agonia votaste decidendone la sorte e quanto giusto pensate che sia una sentenza che decreta morte qui l'accusa diviene ancora più esplicita individuando una categoria di persone ben precisa da accusare e cioè gli uomini di legge i giudici, coloro che hanno decretato la sentenza di condanna a morte verso coloro che hanno peccato contro la legge ancora una volta costoro sono introdotti da una invocazione pomposa altisonante che nasconde una chiave evidentemente ironica li chiama infatti giudici eletti per far trasparire l'importanza di cui si sentono qualificati ma che inevitabilmente suona come un atto di derisione da parte di De André e ancora una volta dopo l'invocazione vi è l'autodefinizione da parte di coloro che sono stati esclusi ed emarginati e in questo caso sono proprio gli impiccati che si autodefiniscono in un modo io credo estremamente potente dicendo che loro sono quelli che danzano ancora all'interno dei sogni dei giudici De André insomma sta implicitamente rivolgendo una domanda ben precisa a questi giudici e cioè voi che avete compiuto un atto così tanto potente come condannare a morte qualcuno come fate a non sentirvi in colpa? non siete tormentati dentro di voi per avere decretato una sentenza di morte contro qualcuno contro un altro essere umano e ancora una volta De André fa leva sull'innocenza di queste povere persone che sono state condannate dalla società essi sono l'umano desolato grece loro sono il grece umano sono come tutti gli altri sono dei poveri esseri umani senza colpa che hanno avuto la sfortuna di essere semplicemente desolati senza possibilità di salvezza e di riscatto sono coloro insomma che sono morti con il nodo alla gola cioè appunto gli impiccati e la frase finale di questa strofa quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte credo che possa essere una frase quasi da imparare a memoria da imprimere nel nostro cuore e utilizzarla come memento contro la pena di morte un manifesto quasi che riesce ad esprimere in pochissime parole tutto il controsenso di questa pena e di questa condanna che ricordiamo ancora oggi in molti paesi del mondo è ancora vicente e ora viene il turno delle ultime due strofe che sembra non avere un accusato preciso ben definito si rivolge semplicemente ad un generico uomini nella prima delle due strofe finali De Andrè dice Come vedete appunto ora De Andrè si rivolge agli uomini in modo molto più generale come a dire badate bene che siamo tutti coinvolti tutti quanti che ci crediamo di fatto esenti da un destino tragico malaccettando il destino comune tutti noi non pensiamo che veramente toccherà a noi un destino di disgrazia di morte di caduta nel basso fangoso della nostra psiche noi pensiamo di essere coloro che sono fortunati coloro che non si mischiano con l'emarginazione più becera bene a noi che pensiamo questo a cui la pietà non conviene sempre la pietà costa fatica donarla a coloro che non possono donarti niente in cambio a coloro che sembrano completamente perduti e immersi nella loro miseria ecco noi andiamo andate dice De Andrè nelle sere di novembre ricordiamo sempre che il dato temporale per De Andrè è sempre interconnesso con il dato esistenziale dunque qui novembre non è solo il mese di novembre ma è il mese dei morti è il mese in cui più si sente personalmente la morte psicologica dell'io ecco in questo contesto andate a spiare la morte e il vento in mezzo ai camposanti andate nei cimiteri a vedere la morte che fa da padrona che dilaga come per ricordarvi da memento mori che quella sarà la vostra sorte voi che pensate che non ne sarete toccati no ricordatevi andate a guardarla la morte perché è presente ovunque nel mondo e voi semplicemente ve ne state dimenticando la state allontanando tra l'altro il verbo spiare lo trovo veramente intelligente invita gli uomini De Andrè a spiare la morte come a dire non fatevi vedere non guardatela in modo troppo esplicito datele un'occhiata fugace veloce senza esagerare perché potrebbe essere troppo disturbante guardarla fino in fondo fare l'esperienza completa della morte no è meglio avere un contatto fugace spiarle darle un'occhiata veloce e subito si comprende il dramma dell'esistenza meglio non infossarsi troppo nell'abisso cosmico della coscienza della propria mortalità aggiungendo De Andrè anche l'immagine del vento che personalmente mi dà una duplice idea cioè quella del vento appunto che soffia e dunque questa sorta di forza transitoria che fa passare via le genti le vite in una sorta di circolo continuo della vita la vita passa si spegne e torna altra vita poi torna altra morte noi siamo esseri effimeri transeunte che siamo destinati a passare il vento soffia così come passano via le nostre vite e dall'altro il vento dà l'idea del silenzio quel silenzio in cui si è immersi quando si sente solo lo stridulo del soffio del vento quel silenzio che è un silenzio di spegnimento della vita il silenzio presente nei cimiteri dove sei solo contornato dalla tacita forza della morte ecco questa morte e questo vento Deandrelli fa di fatto personificare fa fare loro delle vere e proprie azioni fa loro muovere le tombe come fossero delle tessere giganti di un domino che non ha mai fine un'immagine incredibilmente potente la vita di noi uomini di noi esseri viventi è di fatto come le tessere di un domino quelle tessere che rappresentano la nostra tomba una tomba che all'inizio sta in piedi è eretta perché si è vivi certo ma che inevitabilmente dovrà prima o dopo cadere l'una sull'altra in un domino appunto che non avrà mai fine questa eternità del ciclo di vita e di morte eternità del destino comune a tutti di spegnimento necessario nella morte questo siamo siamo dei pezzi di pietra delle tombe delle tessere giganti che prima o dopo presto o tardi cadranno l'una sull'altra e si spegneranno ritornando alla terra e diventando appunto quello che sono sempre state niente solo pietra e polvere e infine l'ultima strofa e andrà chiude dicendo uomini poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso ormai tardivo per non aver pietà già mai avuto e non diventi rantolo il respiro sappiate che la morte vi sorveglia gioir nei prati o fra i muri di calce come crescere il gran guarda il villano finché non sia maturo per la falce ecco qui c'è il definitivo memento mori con cui De Andrè ci consiglia caldamente di ricordarci che il destino che ci attende è quello della morte quindi non conviene aspettare a provare pietà per gli altri perché se si tarda troppo a largire questa pietà il rischio è che all'ultimo momento arrivati all'ultimo minuto della nostra vita si venga soffocati dal pentimento un pentimento che per ormai è tardivo un pentimento che genera rimorso e senso di colpa quante volte si sono visti esseri umani che alla fine della vita o quando ormai è troppo tardi si rendono conto in una sorta di epifania morale che hanno sperperato il loro tempo inseguendo falsi idoli falsi successi non apprezzando veramente ciò che la vita ha da offrirci non comportandosi da esseri umani verso gli altri esseri umani ma dimenticandosi la comune natura di cui tutti siamo partecipi ma dedicandosi solo al più bieco individualismo più brutale ecco vivere in questo modo per quanto sembra risultare appagante per tutto il corso della nostra vita alla fine ci porterà a bendirsi quando arriverà l'ultimo minuto ci renderemo conto che tutto quanto è stato buttato e che avremo necessità di ben altri valori di andarcene da questa vita circondati da persone che ci amano e circondati da una pietà che ci viene largita se solo se a nostra volta noi abbiamo avuto il coraggio di donarla questa pietà in modo disinteressato a quanti ne avevano bisogno sappiate che la morte vi sorveglia in un unico verso potentissimo De Andrè riesce a dare l'idea di un perfetto memento mori dicendo peraltro che questa morte sorveglia tutti sia colui che ha la fortuna di essere felice e di gioire nei prati quindi è libero è felice e ha vissuto una vita preziosa sia colui che è dentro le mura di mura di calce quindi che è probabilmente imprigionato è dentro un carcero in una condizione di vita di fatto vincolata alla schiavitù e alla privazione di libertà ecco insomma entrambe queste persone sia il ricco sia il povero sia lo sfortunato che il fortunato tutti quanti sono destinati ad andare incontro alla morte che ci sorveglia tutti esattamente allo stesso modo in cui il contadino il villano sorveglia la crescita fruttuosa del grano che quando appunto è abbastanza maturo proprio come noi esseri umani falcerà via di netto senza alcuna pietà e proprio qui sta il punto quando arriverà il nostro momento la morte ci strapperà a questa vita senza pietà senza compromessi senza mezzi termini conviene dunque che di fronte a questa tragicità esistenziale che siamo costretti a vivere almeno noi singoli esseri umani abbiamo la decenza di provare pietà reciprocamente l'uno con l'altro e infine vi leggo la parte corale che è appunto una leggenda cantata da un coro di bambini una vera e propria favola che si interseca in mezzo ad ogni strofa del recitativo e dunque di fatto si sviluppa in modo parallelo al recitativo e finisce proprio quando finisce il recitativo le ultime parole del recitativo infatti fanno partire l'ultima strofa del corale creando un effetto quasi catartico perché mentre si sente questa canzone dai toni sommessi lamentosa con questa voce singola di De André che accusa e si scaglia contro il male del mondo proprio quando questo lamento accusatorio va spegnendosi si alza nell'alto del cielo come un inno la canzone dei bambini il coro dei bambini che quasi dà un moto di speranza un moto di gioia con cui vuole concludersi questo album che di fatto è stato all'insegna della morte psicologica dell'io c'era un re che aveva due castelli uno d'argento e uno d'oro ma per lui non il cuore di un amico mai un amore né felicità un castello lo donò e cento e cento amici trovò l'altro poi gli portò mille amori ma non trovò la felicità non cercare la felicità in tutti quelli a cui tu hai donato per avere un compenso ma solo in te nel tuo cuore se tu avrai donato solo per pietà la canzone si conclude significativamente con la parola pietà all'insegna della quale aveva cominciato dando l'idea insomma che il significato finale di tutto questo album di tutta questa sofferenza cantata nel corso delle varie canzoni sia ritrovare dentro il nostro cuore la fratellanza che ci accomuna tra tutti noi esseri umani una fratellanza che si erga proprio sul massimo imperativo morale della pietà reciproca con cui dobbiamo vivere e condividere questa nostra esistenza bene ragazzi l'analisi si conclude qui e con questo video si conclude anche l'analisi che ho fatto dell'album tutti morimo astento di Fabrizio De Andrè spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi invito a supportarmi lasciando un like ed iscrivendovi al canale vi invito anche a dirmi cosa ne pensate di questo video e delle altre canzoni commento che ho fatto rispetto a questo album qui sotto nella sezione commenti e se avete suggerimenti per il futuro per gli altri album per altre canzoni analisi di De Andrè sono sempre ben accolti vi ringrazio per il supporto e a presto con nuovi contenuti di Suddè Andrè di Suddè Andrè